Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi vorrei fare due considerazioni su quelle che sono le proposte di legge che probabilmente presumibilmente la bozza che è stata presentata andrà approvata in parlamento per cui diventerà legge a breve sulle ultime modifiche del codice della strada perché giustamente sono state fatte delle cambiamenti e questi appunto in alcuni casi sono cambiamenti abbastanza consistenti io diciamo che da un punto di vista generale sono assolutamente d'accordo con i cambiamenti che sono stati cioè con le modifiche che sono state proposte anche se alcune di queste sono un po' tardive perché prendiamone una per tutte il fatto di limitare l'utilizzo di macchine molto potenti ai neopatentati questo è diciamo è frutto è stata una come dire una norma una norma che è stata introdotta sulla base del dell'emotività dovuta all'incidente di quello youtuber e diciamo è un po' tardiva perché appunto recentemente abbiamo assistiamo frequentemente a ragazzini che neopatentati che usano macchine molto potenti che poi va a finire che creano seri problemi a loro e a coloro che stanno che stanno attorno che sono a bordo con loro quindi su questo e questo è sto dicassi per le moto quant'altro cioè macchine molto potenti bisogna essere in grado di poterle utilizzare di avere un'esperienza per poterle utilizzare perché non scherzano cioè non è che uno prende la patente e con questa pensa di di poter guidare qualunque macchina le macchine potenti sono diciamo degli strumenti che se utilizzati con criterio danno delle soddisfazioni quant'altro ma se utilizzati con imperizia sono veramente molto pericolose stesso dicassi anche su una macchina che ovviamente non è potente se uno la usa ed è distratto ecco ad esempio le norme che hanno introdotto sono d'accordissimo sul fatto che la stragrande maggioranza ma io lo vedo tutti i giorni andando venendo in ufficio piuttosto che andare in autostrada la quantità di persone che guidano con il cellulare che siano in moto che siano in macchina al semaforo è una roba impressionante impressionante io vedo proprio non dico una macchina su due ma c'è una quantità di gente nonostante che da quello che mi risulta ci sia una norma che vieta e punisce l'utilizzo del cellulare però probabilmente se non sono esperto sulla multa che veniva precedentemente data al trasgressore so che adesso se uno utilizza il cellulare la cosa si fa molto più grave cioè questa persona qua rischia la prima volta viene viene ritirata la patente per tre giorni e se recidivo gli viene proprio tolta la patente per un periodo molto più lungo questo secondo me è uno degli aspetti che ovviamente poi deve essere seguito da dei controlli perché se uno mette delle come dire delle norme e poi non viene controllato ovviamente il tutto decade di senso però diciamo il discorso dei cellulari lo trovo assolutamente corretto il discorso di consentire a delle a dei neopatentati con almeno tre anni di esperienza di guidare macchine sopra una certa cilindrata lo trovo altrettanto sensato io quello che avrei fatto personalmente è oltre una certa potenza aveva addirittura obbligato coloro che comprano queste macchine a fare un corso specifico per l'utilizzo corretto di quella macchina perché non è che anche una persona dopo tre anni di esperienza che guida una panda gli scadono i tre anni prende una una porsche di 3 rs con 600 cavalli non è che ha risolto il problema perché ha guidato tre anni la panda cioè i casini o i problemi se li ritroverà anche dopo tre anni quindi forse un appunto che posso fare sarebbe stato più corretto dire magari stabilendola per livelli di potenza oltre una certa potenza e devi farti un corso di guida sicura io tanti anni fa ho fatto un corso di guida sicura ho imparato basta imparare quelle tre quattro quei tre quattro concetti che la volta che ti servono ti salvano la vita quindi o perché perdi la trazione o perché sulla neve nella macchina non riesce a correggere nel funzionamento della bs ci sono determinate cose che uno non nasce imparato e nelle scuole guida da quello che mi risulta soprattutto quando fanno la pratica non è che insegnano oltre il fatto dei parcheggi mica parcheggi la precedenza o quant'altro queste cose qua che sono delle cose pratiche se uno perde la direzionità della macchina in curva nessuno gli insegna che è più logico cioè che cosa deve fare per tenere la macchina in strada la prima cosa che uno fa schiaccia sul pedale sul freno e la macchina a questo punto parte per la tangente la cosa più sbagliata che uno possa fare tanto per fare un esempio quindi avrei implementato questa questa norma con l'obbligatorietà di fare un determinato corso stesso dicassi sulle moto cioè io non metterei mai il sedere su una moto troppo potente perché non proprio non mi piaccia mi fanno addirittura paura quindi non non sono di quei fanatici però anche in quel caso sono delle cose veramente rischi del su una moto che ha 200 cavalli quindi rapporto peso potenza sono i missili terraria quindi ancora più pericolose di una macchina che quantomeno ha una carrozzeria attorno mi sembra che altre normative siano quelle sul discorso di coloro che vanno in giro o sotto sostanze sufficienti o diciamo con livelli alcolemici superiori a quello consentito anche in questo caso c'è stato un giro di vite non indifferente ci sono dei recidivi che fino adesso li beccavano si prendevano la multa e sei mesi dopo li ribeccavano ancora si prendeva un'altra multa ma non succedeva niente adesso nella prima la prima volta beccano la multa la seconda volta addirittura gli monteranno in macchina un sistema per cui dovranno fare praticamente l'alcol test tutte le volte che accendono la macchina e se nel il valore dell'etilometro è superiore alla norma la macchina non si accende questo è già un sistema che da quello che mi risulta funziona da alcuni anni in altri stati europei e anche questo direi che un'ottima un'ottima soluzione venendo poi a diciamo che non è che me ne ricordo tutte però ho citato le cose principali un altro aspetto che io vivo a milano è un aspetto veramente devastante è l'inciviltà e la pericolosità di tutti quei mezzi che non sono motori a scoppio che non sono che non hanno un motori a scoppio in questo caso parlo dei monopattini nonostante io abbia monopattino lo uso quando mi serve lo uso ma ho sempre considerato assolutamente rischio se infatti metto il casco dal primo giorno in cui guidavo il monopattino perché mi sembra la cosa più logica quando vado a sciare mi metto il casco cioè che senso andare in giro per la strada senza il casco secondo me è una cosa veramente fuori da ogni logica quindi fatto di avere obbligato coloro i quali hanno il monopattino a utilizzare il casco la targa e l'assicurazione è una cosa e soprattutto vietare il la circolazione sui marciapieni è una cosa sacrosanta anche a me sarà una rottura di scatola andare a chiedere la targa a fare l'assicurazione che comunque avrà un costo però lo trovo una cosa giusta perché nel momento in cui uno è libero ad andare in giro con questi aggeggi che con poco vengono a volte mi sono trovato di fianco con la moto a dei monopattini che andavano più di 60 all'ora così come le biciclette ci sono delle biciclette che vanno come dei altro che i motorini 50 cioè vanno a delle velocità ma veramente fuori da ogni logica sono delle moto taroccate da biciclette e qui chiudo l'ultima parte il discorso dei monopattini l'hanno secondo me gestito e contingentato in maniera logica peccato che hanno lasciato fuori completamente il comparto dei ciclisti allora ritorno al discorso di milano non vedo per quale motivo quelli che vanno in giro in bicicletta a milano è un disastro perché a milano il sindaco che è un imbecille l'ho già detto precedentemente lo ribadisco ancora che sale un imbecille per il semplice motivo che ha dato una disposizione e l'ha data lui non l'ha data la regione lombardia o chi per esso ha dato la disposizione che i ciclisti a milano possono girare contro mano questa secondo me è un'idea folle da uno che non ha il cervello perché se uno gira in strada deve ottemperare deve seguire quelle che sono le norme della strada se io in moto faccio una curva e sono distratto e non mi aspetto che uno diciamo in contromano mi venga contro investo un ciclista gli faccio male o ancora peggio vado nelle grane io più che lui perché è così io cosa devo avere gli occhi da 200 parti se c'è un senso di marcia questo deve essere rispettato dalle moto dalle macchine dai monopattini e anche dai ciclisti oltretutto anche il ciclista secondo me come giustamente fanno in svizzera dovrebbero avere la targa come fanno per i monopattini e l'assicurazione cosa che non mi risulta che questa legge qua abbia diciamo introdotto quindi bene il fatto che hanno coperto determinati ambiti male il fatto che ne ha lasciati alcuni scoperti come appunto i ciclisti totalmente assenti e a milano un grossissimo problema perché ogni due per tre c'è qualcuno che ci lascia le bucce e nessuno capisce la motivazione per forza ma di un incontro umano ti arriva una betoniera dall'altra parte questo poveretto qualche cosa fa ci finisce sotto la betoniera mi sembra logico e poi colpa di quello della betoniera e poi ci sono alcuni ambiti come ho specificato che secondo me li avrei migliorati appunto il discorso di andare a creare dei corsi di guida sicura per capire e prendere padronanza su macchine veramente potenti non si può dare al ragazzino viziato una lamborghini huracan o una macchine di quel genere lì perché veramente è troppo rischioso troppo rischioso questo è il mio parere assolutamente personale che esula dal discorso delle del lavoro che noi facciamo quotidianamente però mi sentivo di di fare un punto della situazione anche su questo perché comunque riguarda sempre il discorso delle auto riguarda il discorso della circolazione quindi indirettamente ci riguarda direi per il momento è tutto se avete bisogno dei dubbi delle lucidazioni ripeto io non sono ferratissimo su questa cosa vi ho solo dato una mia impressione totalmente soggettiva alcuni possono non essere d'accordo comunque commentate e io vi darò le risposte che riterò più opportune per qualunque informazione mi potete contattare lo 027383175 cliccate sulla campanella in bassa destra soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima